qui c'è una lettera le do una cosa spirituale grazie e si vede da merito sia per il vostro servizio sia per il vostro servizio che anche per perché si passi un po' questo momento anche per i nostri ospiti e per tutte le carite perché questa storia ve lo dico subito una parte va sul territorio ma le caritas locali che hanno fatto proprio richiesta di necessità che noi oltre a fare il lavoro qui sosteniamo tutte le caritas locali che sono 43 caritas locali sulla provincia di Arezzo